Le immagini delle ambulanze all'esterno degli ospedali, in particolare quello Covid di Scafati, continuano a generare nell'opinione pubblica timore e sconforto sulla tenuta del sistema ospedaliero territoriale, attese non di ore ma di giorni con pazienti che vengono assistiti a bordo delle ambulanze e che si liberano dei posti. Purtroppo la lunga degenza degli ammalati Covid complica ulteriormente le criticità della pandemia come la morte di una donna mentre era in ambulanza o di un uomo deceduto appena entrato in pronto soccorso all'ospedale di Scafati. Il dottore Rino Pauciulo, responsabile dell'area Covid, chiede chiarezza perché non c'è nesso tra i posti letto elencati dalla regione e le difficoltà che emergono quotidianamente tre medici impegnati sul fronte della pandemia. Io non lo so se sono un cretino, io ho 10.000 persone che si fanno sempre la stessa domanda, noi riceviamo puntualmente tutte le sere un bollettino regionale dove ci sono dei numeri, li faccio inquadrare, penso che li conosciate, uno è del 15 marzo, uno è dell'8 marzo, tutti quanti dicono che posti letto disponibili per degenza 3.160, posti letto Covid e offerta privata, togliamo l'offerta privata pare che abbiano tolto le convenzioni, quanti sono? 1.000? 1.100? Dove sono questi posti? Io non l'ho capito ma tanta gente non l'ha capita, qua litighiamo con i familiari dei pazienti che dice perché non ricoveri mio padre quando ci sono 3.000 posti liberi in regione, io non riesco a dare una risposta, una spiegazione, ma un'altra cosa strana, e la matematica non è un'opinione, a fronte di 3.160 posti e ce ne sono 1.425 occupati, quando questi 1.425 diventano 1.543 ci sono sempre 3.160 posti disponibili, non mi trovo con un'operazione, questa è un'addizione o una sottrazione, io non mi trovo con i risultati, qualcuno deve, ma deve dare risposta, non a me perché sono l'ultima rota del campo, ma alla gente, qua giocano sulla pelle delle persone, giocano con la nostra credibilità, con la nostra dignità. Siamo attualmente pieni come tutti i giorni, il problema è che l'adegenza è lunga, i pazienti restano in ospedale molto tempo e di conseguenza anche le dimissioni avvengono a distanza di tempo. Attualmente quando arriva un paziente resta bloccato di fuori del pronto soccorso perché non ci sono posti in reparto, noi abbiamo tre posti di pronto soccorso e osservazione breve e una shock room, puntualmente sempre occupata anche da pazienti che non sono in codice rosso, con grave rischio anche per noi. Quindi il paziente è destinato ad attendere anche qualche giorno, qualcuno è stato 4 o 5 giorni in ambulanza, una 92enne è morta in ambulanza, un altro anziano è deceduto appena siamo riusciti a portarlo dentro dopo 3-4 giorni di attesa. La situazione è tragica per quello che riguarda il pronto soccorso. Sì, c'è carenza di medici perché, diciamo, carenza di specialisti. Dovrebbero aprire un reparto di subintensiva ma c'è bisogno di pneumologi, di rianimatori, pare che non se ne trovino. Quale potrebbe essere la soluzione? Non ne ho assolutamente idea, non ne ho idea. Accorpare reparti ordinarie e trasferire medici nei reparti Covid? Sì, trasferire i medici, gli internisti nei reparti Covid, nei reparti di subintensiva, ma questa è una cosa difficile da fare. Uro scopatici ha anche un reparto Covid per pazienti psichiatrici? Devono aprire sei posti per pazienti psichiatrici e pare sei posti per pazienti nefrologici che fanno la dialisi. Questo significa sottrarre altri 12 posti letto a una degenza normale. Non è una critica, una constatazione, ma io dico solo, diteci come dobbiamo fare.